Ehi, Bill, I'm in the mood for a switch-up Siamo Pier? Sì Ready Pier? Sei pronto Pier? Sì Ready Pier? Sì Tutto a posto Pier? Tutto a posto Sei pronto Pier? Sì, sono pronto Ti manca ancora tanto Pier? No, sono pronto Pier ci siamo? Ci siamo, ci siamo Una stretta ai pedali? Dai una stretta ai pedali Ma vedi che posto Questa è la rimessa delle biciclette, Hotel Bike Friendly Guardate quanti attrezzi ci sono Anche l'olio per la catena, bellissimo Hai sopperto? No, insomma Sei troppo allenato Pier In agilità Quanti ce ne mancano? Cinque di passi? Sì Facciamo Carbonara o un piatto di lasagne? Io anche una matriciana Me la farà a questo punto Anzi anche due pizzoccheri Già che siamo qua Già che siamo in zona Pizzoccheri Cercheremo anche le barrette Questo pizzoccheri Se le fanno qua di Vigno Oh! Peccato, era magnifico ma abbiamo sbagliato strada Dobbiamo tornare indietro Eravamo talmente presi dal bel trail Che non abbiamo visto la deviazione Ma neanche alla Etrica Troviamo dei trail così via Il paradiso terrestre Andiamo? Andiamo! Pahah! I hit the punch and hit the rose To I hiccup I hit the stage and leave with money that say stick up I hit the stage and leave with money that say stick up She picked up perfect so I told him I'm gonna flick up Beil I'm in a momm Day one Epic Tour in preparazione alla Swiss Epic in ritorno all'All Mountain però perché con paesaggi simili non possiamo non gustarci tutti i panorami quindi invece di andare a testa bassa a pedalare con la cross country abbiamo deciso di scegliere la bicicletta da All Mountain e i posti sono incantevoli andremo a finire anche in Svizzera da Livigno passeremo il confine e andremo in Svizzera faremo sette passi della montagna i gran primi della montagna ne abbiamo già fatti due e si prospetta il prossimo guardate cosa ci arriva ma chi se ne frega abbiamo tutta la giornata davanti il sole è magnifico la giornata è splendida e si gusta l'aria pulita c'è un profumo di odore di pino caldo di un pino secco caldo si entra nelle narici lo sentite ditemi che lo sentite abbiamo fatto la strada prima un orrore salivano le macchine con i fumi neri ma volete mettere un posto così quella è la direzione del rifiugio viola guardate che roba mi mancava proprio l'Or Mountain testa alta a guardare panorami la tipa ci ha proposto cosa salsiccia polenta sarebbe stata un pochettino troppo quindi ci accontentiamo un pochettino di un pane al prosciutto arrivati sembra proprio che questa salsiccia finita eh che posto oh 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 spettacolo uno spettacolo stiamo iniziando la discesa da Val Viola oh co Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, neanche Missoni è in grado di fare colori del genere. Abbiamo 9 km di salita, vai! E' una bella matriciana. Passo Bernina, 2330. Siamo cotti. Siamo in riserva, direi. Sì, siamo proprio ridotti al lomicino. Però è bello, cavolo. Ma che scenario. Subito dopo il Passo Bernina si arriva al Lago Bianco. Che ore sono, Thier? Da 4. Siamo in giro da quanto? Da 9 stamattina. Con nostra grande sorpresa siamo arrivati all'ultima salita. E quello che ci si prospetta è questo. Onestamente non ho idea di cosa sarà. Siamo cotti marci. È 8 ore che stiamo girando. E adesso andiamo incontro all'incognito. Vedremo se ce l'ha. Faranno i nostri eroi? Buah! Bravo, Pier! Bravo! Stiamo spingendo. Dai, Pier, che diventa umano qui. Lì si dovrebbe riuscire a pedalare su quel trail. È leggermente in pendenza, ma si dovrebbe riuscire. Comunque siamo costantemente su 2002-2003. Si fa fatica a parlare, a trovare parole e a dire le parole nel mondo giusti, giusta, giusto. Guarda, non so neanche più come il chiamone. Guardate che meraviglia. Cavalli liberi allo stato brado. C'è lo stallone che mi sta puntando da un paio di minuti. Da sopra ci sono gli indiani che si stanno tendendo l'agguato perché siamo in mezzo alla gola. John! Dobbiamo nasconderci, John! Non siamo in mezzo alla spingendo. Yeee! Si spalla! Yuhu! Siamo in mezzo al nulla. Sia davanti che dietro. Ogni dorso che passiamo speriamo di vedere la discesa, qua. C'è un muro davanti a noi. Pierre, hai visto che muro che c'è davanti a noi? Sì, ho visto. Cos'è quel muro lì, Pierre? La via ferrata, che è. Non so, qua. Si continua a salire. Pierre è cotto. Siamo a 2.336 metri. Il posto è incantevole. in mezzo al nulla. Siamo veramente isolatissimi. Manca solo che salta fuori un orso e poi abbiamo fatto il tombolo, eh. Vai sì. Ma c'è un altro muro là, Pierre. Ce la faremo arrivare a casa con la luce. Guarda, è un altro laghetto, Pierre. Quanti ne abbiamo visti di laghetti? No, oggi non li portiamo. La 253. Un altro lago, Yuhu! Mi spingi ancora. Ma sì, potrebbe fare un tuffo. Un bel tuffo. Ad Angelo. Non è sei. Abbiamo superato tutte le muraglie cinesi. Siamo arrivati da quella valle del nulla. E adesso andiamo lì. Onestamente non so dove siamo. Indica discesa, ma discesa è, ma vediamo come sarà. Ma! Siamo arrivati da la valle del tutto. non bisogna guardare a destra un altro laghetto la strada civiltà, Passo Porcola 2315, quanti passi abbiamo fatto? 4, 5, 3, 4, 5 siamo arrivati, siamo scesi dalla sopra e siamo arrivati da quella stradina lì ciao 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 ciao